Il progetto per la creazione di un polo teatrale a Teramo dietro il santuario della Madonna delle Grazie è quasi pronto. Il Comune ha inviato alla soprintendenza la documentazione necessaria per ottenere il nulla osta per la demolizione di parte dei capannoni comunali. Questo passaggio è fondamentale per avviare i lavori che dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. È una soluzione che non si pone come alternativa pura rispetto alla riqualificazione del teatro comunale su cui i lavori interni sono già partiti ed esternamente partiranno a settembre con l'imbalcatura che è già stata realizzata e quindi siamo in fase decisamente avanzata. Quindi non solo esclusivamente, ripeto, un'alternativa ma una soluzione che andrà a potenziare il patrimonio culturale pubblico della nostra città anche attraverso uno spazio che è profondamente diverso rispetto agli altri contenitori che abbiamo in città e su cui si potrà sviluppare laddove verrà portato a termine perché ovviamente ci saranno poi vari passaggi previsti dal project con il Consiglio Comunale una serie di attività che sono legate anche alla Film Commission. Questo è un aspetto su cui vogliamo spingere e lavorare molto recuperando anche un'idea che in passato era stata prospettata da alcuni professionisti che poi non è andata a termine. Poi c'è l'altra soluzione su cui ci muoviamo parallelamente che è più immediata, quella sì come soluzione alternativa pura al teatro qui al Parco della Scienza dove abbiamo già fatto diversi passaggi con i professionisti. La scorsa settimana e nuovamente questa settimana ci saranno incontri che ci consentiranno di pianificare l'intervento. Il progetto prevede la costruzione di una sala modulare da 500 posti, residenze per artisti, laboratori, una biblioteca, una scuola di teatro ma anche un asilo, una scuola materna. Saranno utilizzate tecniche costruttive, ecocompatibili e impianti fotovoltaici per garantire l'efficienza energetica. In più il polo teatrale sarà collegato al vicino Parco Fluviale creando uno spazio culturale aperto alla comunità tutto l'anno. Uno spazio veramente aperto, culturale aperto che consentirà anche di sperimentare tantissime attività che non esiste in città e probabilmente non esiste nel territorio regionale. Ecco perché dicevo prima che deve essere legato anche all'attività della Film Commission.